L'altro giorno mia figlia, che va in quinta elementare, sottolineo quinta elementare, mi torna a casa tutta felice, io ero sul divano e mi stavo facendo i cazzi miei, e mi dice Papà, papà, lo sai che Marco ce l'ha come una nocciolina? Lì al momento io mi sono messo un po' a ridere, poi ho cercato di spiegarle. Le ho detto, ma sì Cristina è ancora piccolino, si deve sviluppare. E lei? Ma no papà, cosa hai capito? Non piccolo, intendo che è salato.